Uno sciopero in autunno, ad annunciarlo a livello nazionale il NURSID che nei giorni scorsi ha proclamato lo stato di agitazione. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, i maggiori problemi riguardano la mancata attenzione agli infermieri dimostrata dal governo nella redazione del decreto liste d'attesa. Tutte le proposte di valorizzazione della professione infatti sono state respinte. E' inutile, spiega il sindacato, riconoscere che in Italia esiste una carenza drammatica di infermieri, di cui circa 6.000 solo in Toscana, se poi non si mettono in campo tutte le iniziative necessarie per cercare di risolvere il problema. La situazione in Toscana, spiega il segretario regionale Gian Paolo Giannoni, è critica soprattutto dal punto di vista delle dotazioni organiche. Ancora oggi non riusciamo a garantire ore, riposi e ferie al nostro personale. Lo stato di agitazione, proclamato nei giorni scorsi nei territori dell'Asda Toscana Sud-Est, prosegue Giannoni, è la punta di un iceberg di situazioni molto gravi che riguardano l'intera Toscana. La regione è fondamentalmente assente. Da tempo abbiamo chiesto risposte per le mancate risorse e per le valorizzazioni legate alla professione, così come è stata fatta richiesta di un incontro per un confronto sui compensi per le attività aggiuntive, sul sistema 118, sulla prescrizione infermieristica e sulla libera professione. Non abbiamo avuto risposte su nessuno di questi temi ed è del tutto evidente, concludono, che il personale sanitario ormai non ce la fa più.